Ecco Frank all'opera. Com'è? Eh, tira! Bravo Frank! Bravo Frank! Finalmente ti vedremo anche a te eh! Ci voleva eh! Beh ha mangiato la tua canna però ci ha da dire eh! No no ma hai fatto tutto te perché io non c'era! Mamma mia! Ho più afflizione Frank! È grosso questo! Mamma mia è bello questo qua eh! Bravo Frank tienilo! Vado a prendere il guadino? Eh mi sa di sì! Tenilo lì eh! Appoggio qua la telecamera un attimo! Guarda che bello! Stai lì stai! c'era! Se ce la fai da solo? se lo potrai anche fare il cassone, ah beh si è chiaro che si vai si hai visto? si si del vino adesso non voglio dare pesi perché questo qui sarà un 5 o 6 kg che bello non si può allungare è per la testa sempre c'è un altro filo attaccato alza la canna bravo Frank, bravissima ma è piccolo non è? è grossissimo complimenti bravo Frank guarda che pancia che ha questo adesso aspetta lascerlo lì un attimo pesa va? pesa no no qua qua ah proprio qua dentro eh si togliamo poi il guadino vediamo eh mamma fai vedere? 8 kg no 7 kg e mezzo rilasciamo mamma mia bravissimo Frank complimenti e vai